Un artista evergreen che da oltre 40 anni fa cantare e ballare con quella dose di leggerezza che accomuna bambini, adolescenti ed adulti. Sarà Cristina D'Avena, icona della tv anni 80 e 90, non solo per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati, la madrina del Boomerang Rewind Festival, evento che torna quest'anno dopo le migliaia di presenze del 2022 e che, come dice il titolo stesso, ripercorre le tappe dei favolosi anni 80 e 90. Un tuffo indietro nel tempo tra sport, film, cantanti e concerti che hanno segnato un'epoca che sarà tenuto a battesimo proprio da chi di quegli anni è un simbolo, Cristina D'Avena, che sarà sul palco centrale del Lido venerdì 16 giugno per il taglio del nastro. L'evento forte del successo dello scorso anno in questa edizione ha arricchito ancora di più il programma, aumentando le location degli eventi e le giornate, che passano da 2 a 3. La manifestazione, in programma dal 16 al 18 giugno, si snoderà su tutto lungomare Simonetti fino ad arrivare a nord, alla zona razzilla, e a sud in zona porto, con decine di postazioni dove saranno coinvolti giovani e meno giovani. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale On Stage, rientra nel programma della 29esima Festa della Musica Europea, cui anche quest'anno ha aderito il comune di Fano, che fin da subito ha creduto nel Boomerang Rewind Festival 8090, che da scommessa suggestiva nel 2022 si prepara ad essere una bellissima conferma nel 2023.